45esimo minuto, prima si avvicina anche il 45esimo meglio è, ecco Cacà che va a recuperare palla, Cacà che fa anche pressing, Brocchi, Brocchi la tiene in campo, c'è Seidorf libero, Cristian Brocchi mette in mezzo il pallone, Clarez di testa, gol del 5 a 0 per il Milan, gol del 5 a 0 per il Milan. Questi ragazzi qui o ci fanno dannare perché non segnano o ci regalano serate melodiose, dolci, 5 leggeri rossoneri amarassi, ci fanno toccare il cielo con un dito questi ragazzi, questi ragazzi incredibili, questi nostri campioni d'Europa, possiamo? Possiamo chiamarli come meritano questa sera almeno, ce lo consentite grazie. I super campioni d'Europa, certo, in faccia a tutti i super campioni d'Europa, con il loro marchio di fabbrica, il loro calcio spettacolo, il Milan, amarassi 5 a 0, Seidorf di testa, su assist di Cristian Brocchi, grande Brocchi.